Salve a tutti carissimi cinefile, carissimi cinefile, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi di un film che sono andato recentemente a vedere al cinema, è di Craig Gillespie del 2021 ed è intitolato Crudelia o Cruella, se preferite il titolo originale. Premetto che farò degli spoiler, quindi se ancora non avete visto il film in questione e non volete sapere nulla in anticipo, tornate in un secondo momento. Allora, Cruella, Cruella, film che chiaramente si propone di parlare del personaggio abbastanza iconico, direi, è uno dei cattivi più iconici della Disney, appunto Crudelia De Mon, l'antagonista, il nemico che possiamo vedere nel classico, La Carica dei 101. che poi è stato anche realizzato in live action nel 1996, film che a me, insomma, è sempre piaciuto molto, l'ho sempre trovato molto divertente, poi Glenn Close nella parte di Crudelia De Mon è semplicemente perfetta, sembra proprio che l'abbiano cavata dal film di animazione. Questo invece, Cruella, di Craig Gillespie, si propone invece di raccontare le origini, appunto, di questo personaggio. Devo dire che avevo qualche dubbio, non sul regista, perché di Gillespie avevo già visto al cinema Tonia e mi aveva convinto totalmente, insomma, penso che quel film sia veramente di alto livello, bello, coinvolgente, di cui ho fatto anche una recensione, insomma, chiamiamola così, che potrete trovare sul canale se vi può interessare. I miei dubbi riguardavano, più che altro, la scelta del cast, in particolare la protagonista, che è Emma Stone, interpreta, appunto, Crudelia De Mon, e la storia di formazione. Cioè, c'era sicuramente una certa curiosità da parte mia nel capire come Crudelia è diventata, che era, appunto, un personaggio così malvagio, che, insomma, spella i cani per fare dei vestiti. Insomma, ero abbastanza curioso, però allo stesso tempo timoroso che avrebbero, come dire, un po' edulcorato la sua storia di formazione, anche perché è stata scelta Emma Stone, attrice bravissima, una di quelle che preferisco della nuova generazione, oltre ad essere una giovane donna molto bella, con cui, secondo me, è molto facile empatizzare, perché il suo linguaggio non verbale è tra i migliori che si possono trovare sul grande schermo, è estremamente espressiva, poi, a questi occhi grandi, belli, che ti rapiscono proprio, e quindi è difficile detestarla, secondo me. Non so se lei avesse proprio il physique du role per interpretare un personaggio che, insomma, è tutto forché amabile, è impossibile empatizzare con Crudelia Demon, e la grandissima Glenn Close era riuscita perfettamente a interpretare questo personaggio con tutte le sue sfumature, soprattutto con tutta la sua crudeltà, con tutta la sua cattiveria proverbiale. Quindi il dubbio rimaneva sulla scelta dell'attrice, non sulle sue capacità attoriali, ma proprio sulla sua presenza. Allora, devo dire che partiamo dalle cose positive. Il film non ha dei problemi dal punto di vista della regia. A me la regia del film, devo dire, è piaciuta. Ci sono piani sequenza veramente interessanti, movimenti di macchina estremamente sinuosi, che riescono a calarti nell'ambientazione, riescono a descrivere bene l'ambiente addirittura quando siamo all'interno del negozio dove Estella, perché questo è il nome vero del personaggio, diciamo che Cruella è un nome che poi lei si dà e che rappresenta, diciamo, il suo lato oscuro. Ma dicevo, quando abbiamo la descrizione di questo ambiente di lavoro dove si trova appunto Estella, c'è questo piano sequenza che descrive perfettamente l'ambiente e mi ha fatto un po' pensare, non so, a quando Martin Scorsese, pensate voi, quando Martin Scorsese con i suoi piani sequenza descrive le stanze, le varie parti del casino gestito da Robert De Niro. Quindi il problema non sta nell'uso della macchina da presa, non sta nella fotografia, o meglio, quasi sempre non è nella fotografia o negli effetti visivi. Il problema non sta, secondo me, poi più di tanto nella recitazione perché tutti, tutti gli attori hanno interpretato bene la loro parte. Emma Stone, non c'è nulla da dire, secondo me, per quello che è il suo personaggio, per come è stato scritto, ha fatto il suo lavoro egregiamente. Emma Thompson, nulla da dire, è un'altra grandissima attrice che ha saputo interpretare bene il personaggio della baronessa. Paul Walterhauser, forse un po' sprecato per il personaggio che gli hanno dato, quello di Horatio, o meglio Horace, come viene chiamato nel film. Lui è un po' la linea comica della situazione, simpatico, non c'è dubbio. È stato richiesto un certo tipo di recitazione, di resa del personaggio e lui l'ha fatto ottimamente. Il problema è che, secondo me, il personaggio è un po' troppo macchiettistico, mentre invece Jasper, ovvero Gaspare, è già un pochino più approfondito come personaggio secondario. Insomma, dal punto di vista estetico, dal punto di vista estetico, io penso che il film non abbia dei grossissimi problemi. Sì, la CGI, ecco, c'è da dire questo, la CGI non è sempre efficace. Quando si tratta, per esempio, dell'animazione dei cani, dei dalmata, dei tre dalmata della baronessa, lì si vede. Si vede che non sono cani veri e ci sono proprio, soprattutto nei momenti in cui questi cani si devono muovere velocemente e la macchina da presa segue il loro movimento, lì si vede proprio. che si tratta di cani fatti in computer grafica. E poi il momento peggiore della CGI in questo film è quando abbiamo Estella, o meglio Crudelia, che si è lanciata da questa scogliera, o meglio è stata buttata giù da questa scogliera, lei aveva però previsto questa situazione, apre il paracadute, scende e dolcemente arriva in acqua, dove viene recuperata da Horace, e lì è una scena notturna, dove è tutto palesemente fatto in CGI, manca completamente il senso della profondità, e poi proprio il movimento della figura, della Stone, quando arriva in acqua, il movimento dell'acqua, l'entrata dell'attrice all'interno appunto del mare, insomma, è tutto sbagliato, è tutto palesemente finto, è bruttissimo, è antiestetico. Però per il resto, insomma, anche i costumi, il trucco, credo che sia riuscito tutto bene. Anche il montaggio, in realtà, io ho sentito un po' in giro che si è criticato, insomma, il ritmo del film, che è troppo lungo, sì, forse si poteva anche scorciare un pochino, però a me sinceramente non ha annoiato. Cioè, sono state due ore qualcosa che io mi sono sorbito senza troppi problemi, in realtà. Il problema di questo film sta nella scrittura, a mio avviso, perché poi, ripeto, tutto il resto funziona. Anche il commento musicale, anche la scelta delle canzoni, che, vabbè, grazie al cavolo, sono brani pop famosissimi, li abbiamo sentiti e risentiti tante volte, ogni volta che vengono riproposti, a me fa piacere, li ascolto volentieri, danno l'atmosfera dell'Inghilterra anni 60-70, mi piace, anche le ambientazioni, le scenografie funzionano, insomma, da questo punto di vista nulla da dire. Il problema sta nella scrittura di questo film, a mio avviso, perché il film si propone di raccontare una storia di formazione di quello che è un villain, uno dei villain più cattivi proprio che la Disney abbia mai proposto al pubblico. E invece, in questa pellicola, vediamo che questo cattivo, in realtà, non è poi così cattivo. Una delle caratteristiche per cui Crudelia de Monn è famosa, cioè appunto quella di utilizzare dei cani per fare dei vestiti, è una cosa che viene alla fine negata. Non è tanto una questione di fossilizzarsi su questo dettaglio, ma è proprio, cioè, una cosa legata alla sua definizione, cioè lei, pur di realizzare un bel capo d'abbigliamento, pur di realizzare un bel vestito e soprattutto pur di soddisfare il suo ego, il suo narcisismo sconfinato, sarebbe disposta a commettere anche dei crimini, sarebbe disposta anche a scuoiare dei cuccioli di Dalmata. Ecco, questa cosa all'interno del film, all'interno di Cruella, mi dispiace, ma non c'è. Non c'è. Lo spettatore un po' si sente preso in giro ad un certo punto, perché quando sembra che capiamo il motivo per cui il personaggio di Cruella ce l'abbia così tanto, in particolare con i Dalmata, ecco che poi nel corso del film questo elemento svanisce, perché a un certo punto quando Cruella è piccola e bambina vede che quella che lei ritiene essere la sua vera madre viene buttata giù da una scogliera da questi tre Dalmata che sono di proprietà della Baronessa e allora uno pensa che, ecco, ha avuto il trauma infantile che l'ha segnata, l'ha resa sempre più cattiva, l'ha resa sempre di più squilibrata e con questo odio insanabile, profondissimo, nei confronti proprio dei Dalmata, perché sono i cani di quella razza che hanno ucciso sua madre. Quindi uno pensa che ci sarà tutto uno sviluppo da questo punto di vista e invece no, invece non è così. Il film, in un modo un po' forzato, secondo me affibia questo nome che poi è un'etichetta alla più infine alla piccola Estela affibia il nome Crudelia perché c'è questo gioco di parole che fa la madre adottiva di Estela ed è una battuta un po' forzata quella che genera il soprannome di Crudelia, cioè di Cruella, perché in quel momento la bambina ha una bambola che la vuole vestire, la vuole agghindare come vuole, la madre dice no, ma il suo vestito è questo, è orribile, la bambina dice è orribile. E la mamma insomma fa questa battuta questo è crudele, sei Estela, non Cruella. Ed è una cosa secondo me un po' buttata a caso. Se ci pensate bene è un po' come nel film dei Fantastici Quattro di Josh Trank quando all'inizio nella parte in cui viene narrata l'origine dei personaggi e li vediamo da giovani, Ben Grimm, quello che sarà poi la cosa, viene aggredito dal fratello più grande e prima che questo gli metta le mani addosso gli dice ehi, è ora di distruzione. Cioè così a caso. non significa nulla, cioè perché uno dovrebbe dire una roba del genere non si sa e anche insomma qui la madre che per una valutazione data da un vestitino di bambino dice addirittura è crudele. Cioè crudele penso che sia tutt'altro non che uno abbia detto che un vestitino è orrido. Vabbè, comunque prendiamola come battuta. Però insomma questo dovrebbe essere un po' l'origine del nome Crudelia e il film si barcamena fra citazioni, riferimenti anche se in troppo scontati a mio avviso perché dopo che la madre adottiva di Cruella muore lei arriva a Londra si ritrova completamente sola senza famiglia e si mette a rubare a fare furti con Jasper e Horace e sostanzialmente insomma la storia della piccola orfanella che è costretta a rubare per sopravvivere a Londra insomma mi sembra che richiami leggermente Oliver Twist di Dickens e poi quando Estela viene scelta dalla baronessa per lavorare con lei ragazzi c'è poco da fare è il diavolo Veste Prada e io speravo tantissimo che il film dal trailer insomma che non sarebbe stato un riproporre il diavolo Veste Prada e invece purtroppo è stato così perché il personaggio della baronessa è sostanzialmente Miranda Presley in tutto e per tutto il modo di fare di Estela è quello del personaggio della Hathaway nel diavolo Veste Prada il rapporto come si sviluppa fra questi due personaggi è abbastanza simile anche piccole cose per esempio quando lei fa l'ordinazione di quello che vuol mangiare come la segue come si pone la baronessa nei confronti degli altri la recitazione stessa della Thompson richiama tantissimo quella fatta da Meryl Streep nel film il diavolo Veste Prada insomma è stata un po' una scopiazzatura secondo me non un semplice omaggio qui non c'è stata una rielaborazione originale di quel tema e di quella situazione di quei personaggi e poi altre cose non so anche l'espediente ad un certo punto del film quando Crudelia vuole mimetizzarsi e presentarsi ancora una volta ad un ricevimento ad una festa organizzata dalla baronessa tutti quanti sono truccati vestiti pettinati esattamente come Crudelia in bianco e nero e sono tutti quanti indistinguibili riconoscibili lo stesso espediente che viene utilizzato in V per vendetta da V per riuscire a scappare a sottrarsi alla polizia in alcuni momenti Crudelia sembra essere un po' Harley Quinn a parte il poster se voi andate a vedere la locandina ricorda un po' effettivamente Harley Quinn con questo bastone tenuto dietro poi anche quando picchia le guardie della baronessa anche lì insomma difficile non pensare ad Harley Quinn un personaggio schizzato che soffre anche lì di personalità multipla anzi sdoppiamento della personalità che prima si chiamava Harley Quinzel e poi si chiama Harley Quinn e anche lì Estella prima e Cruella dopo cioè non è che ci sia chissà quale originalità in questo al di là di diciamo di queste scopiazzature banalità nella scrittura proprio dei personaggi in particolare del personaggio di Crudelia ci sono delle falle piuttosto grosse ad esempio il momento in cui lei abbraccia il suo essere Cruella io capisco che è una tendenza che lei aveva sin dall'inizio ma quando lei decide di essere Cruella non ha senso che si comporti da stronza proprio anche con Jasper e Horace non ha senso perché il loro rapporto fra di loro insomma si è costruito su altre basi non c'è ragione insomma ma che lei li tratti in quel modo così odioso tra l'altro è anche un rischio perché ad un certo punto questi qui giustamente possono dire ascolta senti ti si vuol bene capito tutti i problemi che c'ha eccetera però a un certo punto vattene a fanculo perché non è giusto che ci tratti come pezzi da piedi ma poi così cioè da un giorno all'altro io capisco che tu ti vuoi vendicare ma se ti vuoi vendicare hai comunque bisogno dell'aiuto del prossimo è inutile che te ti metti a fare le pose della baronessa perché devi essere crudella tra l'altro in questo film la vera crudelia è la baronessa non è cruella quindi anche lì insomma c'è un po' di confusione a mio avviso nella scrittura nella definizione dei personaggi e poi la cosa più evidente è che meno meno mi ha convinto anzi che non mi ha convinto proprio per niente è il fatto che il personaggio di cruella abbia quella connotazione negativa folle sin dal principio come per il discorso dei capelli cioè il fatto che lei abbia questi capelli bianco e nero sin dalla nascita è a mio avviso qualcosa che svilisce un po' il personaggio innanzitutto perché esteticamente si vuol far capire quella che è la sua connotazione interiore va bene ma se questa cosa c'è sin dal principio significa che in realtà il personaggio non fa un vero percorso di trasformazione non c'è un reale cambiamento se nasci tondo non muori quadrato crudelia crudelia ha questa connotazione negativa che il suo essere esser stata educata per anni con la madre adottiva ha un po' mitigato questa sua naturale diciamo malvagità ma poi alla fine è diventata quello che è sempre stata perché è figlia della baronessa tra l'altro quindi come se il male fosse ereditario il film insomma da questo punto di vista non ha chissà quale interesse io avrei ecco trovato molto più interessante capire quali sono stati i momenti quali sono stati gli episodi della vita di Estella che l'hanno fatta diventare crudelia ma che l'hanno fatta diventare per davvero non che hanno risvegliato il suo essere crudelia è un messaggio anche sbagliato perché alla fin fine cioè è come se si desse un po' ragione a quello che veniva detto per esempio che ne so da Cesare Lombroso cioè sei criminale sin dalla nascita quando invece molto probabilmente tu diventi criminale per le condizioni sociali in cui ti trovi ad agire è un po' questo il problema di questo film è lo stesso problema che noi possiamo riscontrare ad esempio nel Trono di Spade il personaggio di Daenerys Targaryen che è un po' l'emblema proprio del fallimento della scrittura di quella serie televisiva è un personaggio che alla fine conferma la diceria secondo la quale i Targaryen sono matti che sono fuori di testa che non ce n'è uno sano anche se poi non è così però la vulgata vuole che i Targaryen siano folli che non ci sia un sovrano Targaryen sano e alla fine la nostra Daenerys Targaryen conferma esattamente questo ed è insomma un errore secondo me è uno sbaglio è una cosa che priva appunto di profondità un personaggio e poi oltretutto il film cerca di edulcorare l'aspetto negativo di Cruella mettendo un personaggio quello della baronessa che è ancora più cattivo di lei ma poi le fa fare delle cose che contraddicono l'essenza stessa di quello che dovrebbe essere Cruella cioè lei che alla fine regala questi cuccioli di Dalmata che di Dalmata poi non gliene frega assolutamente niente si crede così che lei abbia utilizzato i cani della baronessa per fare questo vestito con la colorazione la pigmentazione tipica di Dalmata ma poi in realtà non è vero e lo dice palesemente lo esplicita lo esplicita con Ardi lo esplicita il film perché ci fa vedere che i Dalmata sono sempre vivi e quindi alla fin fine che cosa rimane della vera Crudelia in questo film non rimane nulla non so se poi vorranno fare un seguito dove lì spiegheranno le cose ci faranno vedere la trasformazione di Cruella in un personaggio veramente cattivo veramente crudele veramente odioso ma qui insomma non c'è assolutamente niente di tutto questo mi sembra che la scrittura che tra l'altro è stata realizzata da ben cinque sceneggiatori se non vado errato Dana Fox Tony McNamara Eileen McKinna Kelly Marcel e Steve Ziss quindi ben cinque sceneggiatori non sono riusciti a tirare fuori qualcosa di veramente coerente a mio avviso è grave cioè cinque persone non sono riusciti a tirar fuori una scrittura buona o quantomeno decente che stesse almeno all'altezza un minimo della regia di questo film secondo me è una cosa abbastanza grave e ci sono poi tanti passaggi tanti momenti del film dove ci sono più domande che risposte insomma la scrittura dimostra di essere zoppicante più volte io mi sono segnato qualcosa a parte sì il cambiamento troppo repentino dall'essere una ragazza fondamentalmente amabile simpatica cioè Estela all'essere Crudelia che tratta malissimo Horace e Jasper insomma quella è una cosa che io non ho ben capito ho percepito come troppo repentino questo passaggio questo cambiamento ma poi ecco dei dettagli che mi hanno un po' fatto storcere il naso siccome la nostra Estela entra in competizione con la baronessa e ad un certo punto vuole proprio distruggerla insomma perché scopre la verità sul suo passato e così via ecco che lei ogni volta che la baronessa organizza una sfilata un evento dove lei deve essere chiaramente la prima donna arriva Cruella che le ruba sempre la scena fa sempre queste entrate ad effetto molto provocatorie con questi vestiti che riescono sempre a catturare l'attenzione dei presenti soprattutto dei giornalisti di quelli che seguono gli eventi mondani e ci sono anche delle delle scene devo dire d'impatto che mi sono piaciute ci sono degli espedienti provocatori molto interessanti quando per esempio lei si è vestita cioè ha fatto questo vestito con i vestiti delle annate precedenti della baronessa e li tratta come stracci insomma sono come immondizia come a dire tu sei il passato io sono appunto il futuro no? the future ecco queste sono cose che io ho trovato ganze però ad un certo punto quando vengono mostrati tutti i vari titoli dei giornali viene detto che la polizia non ha alcuna traccia non ha alcuna pista su chi sia cruella quindi si capisce che le azioni di Crudelia hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine oltre ovviamente a quelle della baronessa ora anche lì com'è possibile che questa gente non sia in grado di prevenire l'arrivo che è sistematico di Crudelia agli eventi organizzati della baronessa cioè va bene la prima volta va bene la seconda volta però poi alla terza insomma la chiappi se ti dà fastidio se vuoi metter fine insomma a questo suo diciamo vandalismo a questo suo scandalo e invece no tutte le volte Crudelia arriva come le pare e piace fa la sua entrata in scena ad effetto e ha tutto il tempo di andarsene via anche con un camion dell'immondizia che poi tra l'altro ritornerà utile nel momento in cui lei dovrà liberare Jasper e Horace che sono stati arrestati e quella scena insomma è secondo me palesemente palesemente un riferimento a Terminator proprio ci sono delle inquadrature che sono le stesse l'entrata nel commissariato sfondare la porta e liberarli eccetera è un riferimento a mio avviso al capolavoro di James Cameron ecco questa cosa qua no fatto che lei arrivi e se ne vada come le pare e piace cioè mi è sembrato molto tirato per i capelli perché nessuno fa niente non ha molto senso a mio avviso questa cosa poi anche lì perché c'è il personaggio di Roger che è l'avvocato della baronessa lei dice ma dobbiamo inventarci qualcosa per denunciarla per farla arrestare no e l'avvocato dice alla baronessa guardi mi sa che dal punto di vista legale non ci si può fare nulla va bene allora sei licenziato voce fuoricampo di Crudelia che sta raccontando la storia perché il film è tutto un flashback così di punto in bianco dice Roger ha sempre pensato che lui era stato licenziato per causa mia perché l'avvocato avrebbe dovuto pensare questo cioè l'avvocato conosce perfettamente la baronessa che è una persona viziosa è una persona bizzosa che licenzia la gente con la facilità con cui si beve un bicchiere d'acqua come tra l'altro viene mostrato nel suo laboratorio di moda cioè lei manda via uno semplicemente perché ha fatto un vestito che per lei è inaccettabile e quindi per quale ragione lui dovrebbe pensare ah è colpa di Crudelia se sono stato licenziato no è colpa della baronessa che è una persona odiosa e che non dà il minimo valore al prossimo per quale ragione e anche lì per quale ragione alla fine quando c'è la scena post credits dove scopriamo che pongo e penso peggy ma mi sembra che ci fosse un altro un altro nome ora non me lo ricordo ma insomma dove i due cani che poi dovranno essere quelli protagonisti della carica di 101 sono fratelli va bene ma c'è Roger che è un appassionato di musica che sta componendo una canzone su Cruella ed è quella famosa no quella canzone che è fortemente denigratoria nei confronti di Crudelia De Mon che però insomma per quale ragione dovrebbe essere così denigratoria nei suoi confronti visto che lui con Cruella ha avuto veramente poco a che fare non ricordo neanche che abbiano interagito direttamente semmai avrebbe dovuto fare una canzone sulla baronessa perché lei è veramente cattiva lei è veramente spregevole per quanto ne sa il buon avvocato Roger la baronessa ha buttato giù una persona da una scogliera quindi cosa c'entra Cruella? Ah e sulla scena della scogliera quando alla fine dopo che Cruella ha scoperto di essere la figlia della baronessa eccetera e decide di diciamo fare il colpo che incastri la la baronessa che tempo addietro aveva cercato di sbarazzarsi lei insomma voleva che sua figlia fosse soppressa perché la rifiutava insomma organizza tutto uno scenario per far sì che la baronessa la butti giù di sotto dalla scogliera e sia incastrata per omicidio ecco in quel frangente c'è bisogno dei testimoni e in questo questa festa che la baronessa ha organizzato ovviamente ci sono un sacco di invitati che sono tutti vestiti in bianco e nero come Cruella ecco ad un certo punto tutti quanti vengono con una scusa portati fuori dall'edificio vanno tutti quanti in giardino e considerate che il giardino si trova in questo punto qui ci sono le scale e qui avanti abbiamo la scogliera con il precipizio da cui viene buttata giù la nostra estella ecco ovviamente la baronessa stupidamente fa questo gesto e viene incastrata perché ci sono tutti i testimoni no? perfetto e c'è anche la polizia quindi colta in flagrante perfetto il fatto è che c'è tutta la gente lì fuori e non è che queste persone stanno in silenzio cioè parlano borbottano c'è brusio com'è possibile che lei non si sia accorta che va bene lei era girata di spalle ma porca miseria le orecchie ce l'hai cioè c'era tutta la gente assiepata lì dietro anche questo è un espediente che mi sembra un po' un po' tirato per i capelli un po' deboluccio per incastrare questo personaggio e metterlo in gattabuia e far passare tutta l'eredità tutta la fortuna di famiglia a Cruella e un'altra cosa un altro passaggio secondo me abbastanza fallace è il ritrovamento del medaglione di famiglia che era stato regalato a Estella dalla madre adottiva che poi lei nella fuga quando muore la madre adottiva dimentica si lascia dietro e viene recuperato dalla baronessa ed è da lì che insomma Estella entra in competizione con lei e praticamente il medaglione poi Cruella era riuscito a recuperarlo se l'era mangiato uno dei dalmata ecco succede che quando lei cerca di rubare il ciondolo uno dei tre dalmata della baronessa se lo mangia lei si accorge di questo cioè Cruella vede questa cosa fa rapire i cani e a questo punto insomma deve semplicemente aspettare che uno di questi tre defechi e quindi espella il medaglione bene cosa succede che aspettano e questa cosa non avviene non recuperano nulla eccetera poi cosa succede che la baronessa decide di uccidere Cruella vengono legati tutti quanti Jasper e Horace vengono consegnati alla polizia Cruella viene legata ad una sedia e il posto dove stava il suo diciamo nascondiglio viene dato alle fiamme quindi lei viene fatta passare come vittima di un incendio doloso fatto da Horace e Jasper solo che lei viene salvata da Mark Strong cioè da John diciamo l'assistente il primo assistente della baronessa che si scopre essere un doppio giochista in realtà lui dopo tanti anni insomma ha riconosciuto Estella e quindi insomma decide di aiutarla perché era stato lui a evitare che la bambina fosse uccisa quando nacque ebbene nel momento in cui lui entra in questo edificio che è completamente in fiamme riesce a recuperare il medaglione che sicuramente era stato fatto dal da uno dei Dalmata solo che io presumo che fosse insomma all'interno all'interno dello sterco sicuramente era all'interno dello sterco e lui quindi che non ha visto che non aveva visto tra l'altro che il cane si era mangiato il medaglione lo recupera e riesce a recuperare anche Cruella e a salvarla anche lì come ha fatto cioè lui liquida il tutto con una battuta era nel fuoco cosa vuol dire era nel fuoco cioè il fuoco ha sciolto lo sterco lo ha polverizzato cos'è successo cioè non un'altra cosa che è buttata lì cioè un'altra cosa che non è resa credibile cioè semplicemente potevano inventarsi un'altra cosa il medaglione era nascosto da qualche altra parte lui lo ha recuperato non lo so ma insomma l'idea che ci sia questo stronzo di cane con dentro il medaglione e che lui lo abbia recuperato in mezzo alle fiamme abbia avuto la lucidità di vederlo di recuperarlo di prenderlo e ovviamente era sporco e di salvare anche Cruella non so mi fa ridere e mi fa dubitare molto della dinamica di questo di questo salvataggio di questo recupero di questo oggetto estremamente importante e poi un'altra cosa che mi è venuta in mente è quando la nostra Cruella rompe per l'ennesima volta le uova nel paniere alla baronessa organizza uno spettacolo fuori con tanto di musica canti eccetera è uno show bello dove la gente è lì esultante che è estasiata eccetera e c'è Jasper che suona la chitarra benissimo c'è Horace che è bravissimo al mixaggio c'è Ardy che è un membro che si unisce alla banda in seguito che è perfettamente glam sembra David Bowie canta benissimo e poi arriva Cruella e mi sono chiesto ma perché questi qui non possono mettere insieme un complesso musicale visto che siamo nell'Inghilterra degli anni 70 e lì veramente c'era un terreno fertilissimo per questi gruppi punk che venivano fuori veramente come funghi ma perché anche loro non si sono dati a questa attività cioè sarebbe stato molto meglio piuttosto che mettersi a rubare o a pulire i cessi perché un'altra cosa interessante è che la nostra Estella riesce a trovare lavoro nel negozio di moda eccetera però ovviamente a pulire i cessi e lì sembra un po' scenerento nonostante abbia un curriculum gonfiatissimo dove è stato detto dove viene detto che lei ha lavorato per il principe Carlo e anche lì insomma io penso la prendo come una battuta perché se veramente lì c'è scritto che lei ha lavorato per il principe Carlo e la mettono a pulire i cessi cioè allora gli altri che per avere un lavoro un pochino migliore che cosa dovrebbero essere non lo so cioè veramente non c'è non c'è lavoro per nessuno in questa in questa Inghilterra degli anni 70 va bene insomma queste sono un po' le cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso tutti questi dettagli ma soprattutto il fatto che ancora una volta c'è l'idea che se nasci tondo non muori quadrato se sei cattivo o comunque folle stravagante pazzariello dal principio lo sarai per tutta la vita e questa forse è la cosa più negativa che mi è rimasta di questo film perciò insomma non non so è un film che dal punto di vista estetico tecnico ci sta ma il problema è sostanziale il problema sta nella sua impalcatura sta nella sua struttura purtroppo secondo me non funziona è un po' un fallimento ancora di più se sarà necessario un sequel per farci vedere Cruella che diventa veramente cattiva quindi un film che nel complesso non va per me non è da promuovere peccato perché insomma il regista c'era gli attori c'erano Emma Stone nella parte di Crudelia no perché se Crudelia deve essere veramente cattiva non ci deve mettere Emma Stone ci deve mettere qualcun altro la scelta di Glenn Close era perfetta questa di Emma Stone per quanto lei sia un'attrice molto brava e per quanto lei sia stata brava a interpretare questo personaggio però tale personaggio non è la vera Cruella a mio avviso questo è un po' quello che penso del film fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate se siete d'accordo oppure no iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto commentate condividete e ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti